Il cadavere di un uomo è stato trovato in un'auto nel parcheggio di un ipermercato. Allarmati, i clienti del negozio hanno chiamato i carabinieri dopo la macabra scoperta. Si tratta di Augustino Potenza, di 42 anni, ritenuto un elemento di spicco della Sacra Corona Unita. È stato ucciso in un agguato compiuto a Casarano, in provincia di Lecce, dopo le 18 di ieri sera nel parcheggio dell'ipermercato Ipermac. Il cadavere, trovato in un Audi con targa straniera, avrebbe segni di percosse e sarebbe stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco. Potenza, considerato uno dei luogotenenti del boss brindisino Vito Di Emidio, cominciò a traballare proprio quando quest'ultimo diventò collaboratore di giustizia, rivelando la struttura dell'organizzazione che aveva capeggiato per anni. Potenza fu arrestato per omicidio, condannato all'ergastolo e poi assolto. Il processo a suo carico era ricominciato pochi mesi fa, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Lecce.